Pronto? Pronto? Sì, chi è? Guardi, la chiamo dall'impresa Paga ciò che devi. Siamo un'impresa che si dedica al recupero di insoluti e credo che sia la prima volta che la chiamiamo perché un cliente nostro ha appena richiesto un servizio di riscossione in cui ci indica che lei gli deve 1580 euro. Sa di chi sto parlando? Siete che? No. Come? Non sa di chi sto parlando? Non cerchi di dissimulare perché sa benissimo di chi parlo, non è così? Lei sa a cosa ci dedichiamo in questo tipo di imprese, vero? Pronto? Sì. Salve, senta, la chiamo per il biglietto che ha lasciato sul parabrezza della mia macchina dicendo che è stata lei ad ammaccarla. Beh, innanzitutto volevo ringraziarla per il biglietto perché ormai quasi nessuno fa queste cose quindi la ringrazio. A proposito, lei è assicurato, vero? Ma guardi che sicuramente è uno scherzo. Come? Scusi? Sicuramente è uno scherzo. Sicuramente è uno scherzo. Aspetta, aspetti, solo per chiarire, io ho un biglietto con questo numero di telefono a cui sto chiamando e con la targa, che quindi dovrebbe essere quella della sua macchina che ha ammaccato la mia teoricamente. E lei mi dice di no? Che non è stata lei, quindi? Scusi, ma dove abita lei? Va bene, va bene, allora la cosa cambia. Vediamo, io posso fare così. Denuncio il sinistro alla mia assicurazione indicando la sua targa perché è l'unica cosa che ho in mano. Sì, ma che targa da lei? Lo comunico intanto e poi lei chiarisce tutto con la sua compagnia assicurativa quando la contatteranno. Quindi le spiega quello che le deve spiegare e è finita la storia. Le va bene? Sì, ma dove abita lei? Benissimo, allora vediamo se riesco a farmi pagare dalla sua assicurazione e la riparazione della macchina. Pronto? Pronto. Chi è? Salve, sono Giovanna Cancellieri, la chiamo dall'ufficio notifiche verbali per una contravvenzione per eccesso di velocità sulla sua auto e vorrei essere sicura. Per caso ha ricevuto l'avviso di notifica d'infrazione? Ma con chi sta parlando, mi scusi? Scusi? E' lì? Mi sente? Io non la sento molto bene. Ma con chi sta parlando, mi scusi? Sì, sì, ecco. Ora sì, molto meglio. Ok, forse l'avviso è tornato indietro per qualche ragione, ma aspetti che le spiego nel dettaglio. Questa è una multa per eccesso di velocità. Chi guidava l'auto stava andando a 95 km all'ora. Ma in una strada urbana dove il limite era solo di 50. Quindi è stato superato il limite di 45 km all'ora. E la multa va dai 527 ai più di 2.000 euro con perdita di 6 punti. E' possibile sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Lo sapeva? Per caso sa quanti punti ha in questo momento? Ma scusi, lo chi sta parlando? Oh, scusi, scusi, questo è importante. La foto scattata dall'autovelox rileva che si tratta di una BMW targata DL166BB. E' lei il proprietario di quest'auto, no? No, ho sbagliato, signore. Oh, scusi, scusi, davvero. Forse qualcuno l'ha voluto fare uno scherzo. Che dici? Pronto, buongiorno. La chiamo da Rafferty Headhunters, un'agenzia di recruitment. La chiamo perché abbiamo selezionato il suo curriculum su internet. Un'importante multinazionale con sede a Lugano l'ha visto e sarebbe interessata a conoscerla. Se vuole le spiego brevemente le condizioni dell'offerta e se il lavoro le interessa la metteremo in contatto direttamente con la dita. Che ne dice? No, no, a Milano io non ci vengo. Perfetto. Allora si tratterebbe di un posto da top manager con contratto a tempo determinato e partecipazione a riunioni di alto livello. È un ruolo che richiede molta creatività e per quello che il suo curriculum li ha colpito. E salve, sono Sara Bentivoglio dell'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate. La chiamavo in merito a una pratica. Guardi, mi hanno passato, dunque, vediamo un secondo. Sì, la pratica di sequestro numero 464676823T, che è a suo nome. Le è arrivata la notifica per raccomandata, vero? No. Beh, in realtà non ha importanza perché l'esecuzione verrà fatta in ogni caso. Quindi, scusi un attimo che devo fare un accertamento e poi le continuo a spiegare. Nel filistro di che cosa? Non ho capito. Sì, dunque, le dicevo. C'è qui un ordine di sequestro a suo nome per fraude fiscale intenzionale per la somma di 576 euro. Capisce? Qui è scritto che lei ha due settimane di tempo per ricorrere in appello. Cosa dice? Ma io di qui, scusi tanto, io no che... Allora, di che stiamo parlando? Scusi tanto. Eh, insomma, alla fine chi la fa la paga. E lei, lei... Sì, sì, capisco, ma lei sapeva che stava commettendo una frode, non è vero? Ma che cosa sta dicendo? Ma che cosa sta dicendo? Ma di che argomento stiamo parlando? Senta, senta, non mi venga a raccontare scuse. Lei è stato denunciato da un suo conoscente con documentazione e tutto e deve pagare questa multa. Ma lei è davvero peggio di Berlusconi. Non ho capito, ma che multa è? Pronto? E salve, sono Sara Bentivoglio dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. La chiamavo in merito a una pratica. Guardi, mi hanno passato... Dunque, vediamo un secondo... Sì, la pratica di sequestro numero 464676823T. Che è a suo nome. Le è arrivata la notifica per raccomandata, vero? Ma chi cerca lei? Ma chi cerca lei, scusa? Beh, in realtà non ha importanza perché l'esecuzione verrà fatta in ogni caso. Quindi scusa un attimo che devo fare un accertamento e poi le continuo a spiegare. Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. A partire da oggi riceverà una chiamata giornaliera sull'appassionante mondo degli animali selvatici per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare. Cancellare! Tra tutti gli animali dei quali parleremo abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il daino, il muflone, lo stambecco. Grazie per usare Caccia e Relax. Mi scusi, non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione... Cancellare! A Caccia e Relax, dica cancellare. Cancellare! Vuole cancellare la sua iscrizione? Risponda alla domanda di sicurezza. Qual è il suo animale preferito? Mi scusi, non l'ho capita. Riprovi un'altra volta. Qual è il suo animale preferito? Pronto? Salve, senta, la chiamo per il biglietto che ha lasciato sul parabrezza della mia macchina, dicendo che è stata lei ad ammaccarla. Beh, innanzitutto volevo ringraziarla per il biglietto, perché ormai quasi nessuno fa queste cose. Eh, fermati, fermati, fermati. Sì, la ringrazio. Al proprio punto, lei è assicurato, vero? Sì, è il cazzo. Ma che cazzo sei? Come? Che cazzo sei? Scusi, cazzo, che cazzo sei? Che mi chiami il biglietto? Aspetta, aspetti, solo per chiarire, io ho un biglietto con questo numero di telefono a cui sto chiamando e con la targa. Sì, che targa? Che targa? Che c'è la sua macchina? Che ha ammaccato la mia, praticamente. Io vengo ammaccata la macchina e ti lascio il mio... Che non è stato lei, quindi? Io vengo ammaccata la macchina e ti lascio il mio numero di telefono. Va bene, va bene, allora la cosa cambia. Vediamo, io posso fare così. Denuncio il sinistro alla mia assicurazione, indicando la sua targa, perché è l'unica cosa che ho in mano. Lo comunico intanto e poi lei chiede tutto con la sua compagnia assicurativa quando la contapperanno. Quindi le spiega quello che deve spiegare. Vatta a fan cornetto un cappuccino. Le va bene? Sì, ciao, ciao. Vatta a fan cornetto un cappuccino, va. Benissimo, allora vediamo. Pronto? Pronto? Chi è? Salve, sono Giovanna Cancellieri, la chiamo dall'ufficio notifiche verbali per una contravvenzione per eccesso di velocità sulla sua auto. E vorrei essere sicura. Per caso ha ricevuto l'avviso di notifica d'infrazione? Pronto? 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 E lì? Sì? Mi sente? Io non la sento molto bene. No, io sì. Pronto? Sì, sì, ecco. Ora sì, molto meglio. Ok, forse l'avviso è tornata indietro per qualche ragione, ma aspetti che le spiego nel dettaglio. Questa è una multa per eccesso di velocità. Chi guidava l'auto stava andando a 95 km all'ora, ma in una strada urbana dove il limite era solo di 50. Quindi è stato superato il limite di 45 km all'ora e la multa va dai 527 ai più di 2.000 euro con perdita di 6 punti e possibile sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Lo sapeva? No, dico, ma quando? In questo momento? Ma quando? Quando è successo? Oh, scusi, scusi, questo è importante. La foto scattata dall'autovelox rileva che si tratta di una BMW targata DL. Ma io la BMW non ce l'ho. E lei è il proprietario di quest'auto, no? Pronto? La BMW, io non ho BMW, eh. Oh, scusi, scusi, davvero. Forse qualcuno l'ha voluto fare uno scherzo. Che dici? Ma qui è? C'è il riso. Pronto?